Il bollettino di ieri riguardo alla curva dei contagi era davvero preoccupante. Da quando è iniziata la pandemia mai si era raggiunto un numero così alto di decessi. 48 morti in 24 ore in tutta la Sicilia. Situazione leggermente migliore in provincia di Ragusa dove si registra un calo dei contagi. Questi i dati odierni. Acate 78, Chiaramonte 39, Comiso 350, Gerratana 37, Ispica 93, Modica 358, Monte Rossoalmo 18, Pozzallo 151, Ragusa 562, Santa Croce 60, Scicli 87 e infine Vittoria 813. E' sceso anche il numero dei ricoveri, 122 contro i 138 del giorno precedente. Insomma, sembra che la situazione Covid in provincia eblea si stia stabilizzando ed è ipotizzabile oltre che auspicabile una discesa della curva nei prossimi giorni. Un aspetto evidenziato da molti sindaci, i quali iniziano ad intravedere tra i dati uno spiraglio di luce. Il sindaco di Modica, Ignazio Abate, pomeriggio ha elencato i dati dei positivi suddivisi per zona. Ad oggi, scrive, nella nostra banca dati risultano 358 positivi a Modica così suddivisi. 160 residenti nel quartiere Sorda, 68 nel quartiere di Modica Alta, 59 nelle zone rurali, 39 a Modica Bassa, 13 a Frigintini, 10 a Marina di Modica e 9 residenti nel quartiere del Dente. Intanto Modica in questi giorni sta vivendo in una sorta di nomanzo giallo. Ieri è scoppiato il caso dei messaggi fasulli, dopo che diversi cittadini hanno lamentato il fatto di non aver mai effettuato il tampone, ma nonostante questo risultavano positivi o negativi. Il sindaco ha subito denunciato il tutto alla procura della Repubblica del Tribunale di Ragusa. Oggi invece la denuncia di un soccorritore dal 118 intervenuta a Modica per una paziente in difficoltà respiratoria. Era positiva, lo sapeva, ma lo negava, addirittura andando a lavorare nel suo autosalone. Grazie a tutti.